I ruoli, i ruoli, i ruoli, i ruoli. Ok, ho l'invito, raga, dai. Raga, concentrate adesso, veramente, non dobbiamo sbagliare niente. Questi sono bravi. Siamo di più da palla, appoggiamoci. Esatto. Zero passaggio in orizzontale. Questi hanno il CUC che è molto bravo, se non ricordo male. Come giocano? 4, 2, 3, 1, anche loro? No, 3, 5 e 2, come noi. Se non ricordo male, adesso vediamo. Però veramente stiamo all'occhio. Si avvicinano tanto a noi, se ci battono. Dai, eh. Bravo, cazzo. Pompa, 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 bravo. Lui. Occhio, copri. Bravo, mi è che ho copri. Sì, sì, Mirko, dai, Mirko, dai, Mirko. Fa niente, fa niente, fa niente, fa niente, fa niente. Occhio dietro, ragazzo, occhio spagno, ragazzo. Ok. No, no, adesso è solo l'invio di cielo, se devi scappare indietro. Bravo, siamo... Bravo, siamo... Ok. Ok, ok, va a dar un saltissimo. Bravo Samu, scaliamo il crescito Gabriel, bravo Danny, bravo Danny. Andiamoci, andiamoci, andiamoci qui fuori. Mirko, hai ganciato il radar. Andiamoci, andiamoci fuori. Buona, 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 buona. Stringiamoci eh. Bravi, 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 siamo rientrati bene, buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Dai, vai, 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 vai. Vediamo come si mettono, raga. Va bene, mettila lì. Partite tutti sul secondo. Vai. 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 Siamo a zona raga che si scambiano Danny mettila bene che facciamo gol Vai Vieni Mirko Vai Oh f*** di azz Bravo Gabriel Stringi bravi Via Buonavissimi Mettila su che manca poco zio Mettila Zio come faccio a metterla da lì No col filtrante alto Senza crossarla col filtrante alto Tanto manca poco Ma che vada succede qualcosa Niente fa la bicicletta e cazzo a volo Maddonna se ti entrava quel dribbling in aria Porco diaz Dai 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 raga Se voi vieni Attacchiamo con equilibrio raga Porco dio Porco dio Raga comunque occhio per Parlo di mezzo al campo Perché sono ripartiti un bel po' di volte Sono aggressivi loro al centrocampo Dai raga dai 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 raga dai 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 bravi 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 check out ma poi mi ha agganciato gori bravo bravo buona 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 fa niente fa niente bravi ehi occhio in mezzo dai 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 fa niente fa niente fa niente dai guarda che sto leggendo ok dai ci sono diamo la gazzola fanno un po' in tattico si siamo fatti pescare di più giro la gira non la dito per dritto ok giro la non la dito per dritto non la dito non la dito grazie a tutti 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.